Noi alunni della classe prima liceo AB dell'Istituto di Istruzione Superiore Lagrangia abbiamo deciso di affrontare il tema dei diritti umani, facendo vertere la nostra analisi su tre casi. Il primo caso che abbiamo deciso di analizzare è quello di un ricercatore iraniano, esperto di medicina dei disastri, arrestato con l'accusa di spionaggio nell'aprile del 2016. Si trovava in Iran per partecipare a una serie di seminari nelle università e dopo essere stato incarcerato, nell'ottobre del 2017 è stato condannato a morte per corruzione sulla terra e rinchiuso nella prigione di Evin. Con questa condanna, data l'indefinitezza della norma, le autorità possono perseguire e punire i dissidenti politici e oppositori del governo. Trattando questo caso abbiamo deciso di concentrarci sullo svolgimento del processo, la pena di morte e il ruolo dell'ONU. Il secondo caso di cui tratteremo è quello di Nasrin Sotudeh, un attivista per i diritti umani, che ha subito due arresti con conseguente incarcerazione nel 2010 e nel 2018. Nella sua incriminazione, le autorità hanno elencato sette capi di accusa contro di lei, quattro dei quali erano basati sulla sua opposizione all'obbligo del velo, violando inoltre quattro articoli della dichiarazione universale dei diritti umani. Nel mese del settembre del 2016 ha affrontato l'accusa di propaganda contro il sistema e la raccolta e collisione per commettere crimini contro la sicurezza nazionale. Il giorno del suo processo le fu negato l'accesso al tribunale e l'udienza si svolse in sua assenza. Non è stata inoltre informata di essere stata processata e condannata fino a quando non è stata riarrestata. Inoltre, recentemente, dopo aver contratto il covid in carcere, ha protestato con scioperi della fame per chiedere migliori condizioni sanitarie per i carcerati e per opporsi al trattamento della sua persona e della sua famiglia. Il terzo caso di cui parleremo è quello di Sana Seif, un'attivista egiziana che si batte da tempo per i diritti dell'uomo e della sua nazione. Il 23 giugno 2020 Sanaa è stata prelevata con la forza da un nucleo di agenti in borghese presso la procura del Nuovo Cairo, poiché voleva visitare un proprio congiunto, Al-Abdel Fatt. L'accusa ha ordinato due mesi di detenzione pre-processuale per Sanaa, che è stata interrogata con numerosi ematomi sul viso, particolare che non è stato notato durante l'interrogatorio. Il 17 marzo 2021 la ragazza viene condannata per diffusione di notizie fasulle, uso in proprio dei social media e offesa pubblico ufficiale. Una volta terminato, il lavoro completo verrà esposto agli alunni della nostra scuola.